Balsamo Massaggio Professionale Podofresh in formato Max Convenienza da 150 ml è un ottimo prodotto per prevenire e curare gli spessimenti e callosità dovute alla secchezza dei nostri piedi in quanto è un prodotto che va a ingratare e nutrire in profondità la pelle dei nostri piedi e in più è adatto per un ottimo massaggio prolungato grazie agli oli essenziali presenti all'interno del prodotto è un ottimo trattamento benessere e relax da dedicare tutte le sere ai nostri piedi